Ne andiamo a scoprire insieme cosa ci dice la Corte dei Conti per quanto riguarda il cashback. Tra la fine dello scorso anno e i primi mesi del 2021 sono state attivate due misure, il cashback di Stato e la cosiddetta lotteria degli sconteni, volto a sostenere un più diffuso utilizzo degli strumenti di pagamento tracciabili. Si tratta di misure che comportano esborsi di rilievo per l'erario e di cui sarà necessario assicurare un'attenta valutazione dell'effettiva capacità di incidere sul fenomeno evasivo. Il beneficio per i conti pubblici dipende infatti dalle emersioni dei ricavi rispetto a quelli che sarebbero stati comunque registrati dall'azienda interessata alla misura. Quante imposte sarebbero state pagate senza il cashback e quante imposte sono state pagate con il cashback? Se ovviamente il recupero dell'evasione non è maggiore rispetto ai costi subiti dallo Stato, ovviamente la politica del cashback non può essere considerata come efficace, no? Perché ovviamente i costi superano i benefici sostanzialmente. Lo stanziamento relativo al 2021 è stato determinato in 1750 milioni. Dai, il cashback del primo semestre, dal primo gennaio al 30 aprile, quindi non è tutto il primo semestre, però possiamo farci un'idea iniziale. Il numero di transazioni rilevate al 30 aprile ammonta a circa 454,6 milioni. Gli utenti interessati sono circa 7,5 milioni, dei quali circa 4 milioni pari al 50%, effettuato 50 e più transazioni, raggiungendo in tal modo l'obiettivo previsto per l'orogazione del rimborso. Maggiore frequenza presenta la transazione ricompresa nella fascia tra i 10 e i 25 euro. Prima valutazione degli effetti. Oh, che è la cosa che ci interessa, no? Entriamo nella ciccia. Praticamente, per effettivamente vedere qual è l'impatto la politica ha avuto all'interno del tessuto sociale, la Corte dei Conti ha richiesto alle dovute organizzazioni statali i dati riguardo le transazioni, tra cui anche dove sono state fatte queste transazioni. Perché questo? Perché se magari poniamo caso che il 90% delle transazioni che hanno soffritto del cashback sono state generate all'interno dei supermercati, ad esempio, dove è risaputo che l'evasione è praticamente nulla, no? Nei grandi centri commerciali è praticamente impossibile evadere, in quanto ogni volta che vai a fare la spesa c'è lo scontrino e devono fare i rendi conti, eccetera, eccetera. Quindi, se il 90% delle transazioni è avvenuta col cashback, è avvenuta nei supermercati, la politica non ha effetto, perché tu non stai aumentando l'emersione dell'evasione. Giusto? E come giustamente diceva la Corte dei Conti, hanno richiesto questi dati, ma non sono stati dati a causa della legge sulla privacy, eccetera, eccetera, quando in realtà non sono stati dati alla Corte dei Conti, che è un ente statale, pubblico, eccetera, eccetera, quando in realtà tutti questi dati sono tranquillamente a disposizione di delle organizzazioni private, tipo banche, eccetera, eccetera, che queste informazioni invece ce le hanno, come leggiamo qui. Gli acquirer dispongono normalmente di tutte queste informazioni, mentre lo Stato, che deve andare a valutare questa politica, la sua efficacia, non è riuscito ad ottenerli. Hyper Revolut ci campano da quelle informazioni, esattamente, esattamente. Quindi, no? È sempre l'Italia, è sempre l'Italia, sostanzialmente. Effettivamente non ci avevo pensato, io ho raggiunto 150 euro con un 70% di acquisti nel supermercato. Vedi? Vedi Ryan Ed? Non... In questo caso, tutte le transazioni effettuate nel supermercato non servivano a nulla, sostanzialmente. Va dunque segnalata l'esigenza che le decisioni sulla futura prosecuzione del programma trovino il necessario supporto nella compiuta conoscenza di elementi fondamentali, quali la valutazione degli effetti economici prodotti, nell'incentivazione dell'uso degli strumenti di pagamento elettronici nei diversi settori economici interessati e l'impatto che la diffusione delle modalità di pagamento diverse dal contante ha avuto in termini di emersione di ricavi e compensi precedentemente occultati. Alla luce di quanto precede, non è possibile allo Stato valutare gli effetti che sta producendo il programma, tenuto anche conto che esso è intervenuto in un periodo di straordinarie restrizioni alla mobilità imposte dalla pandemia. Molto bene. È possibile tuttavia avanzare alcune considerazioni sull'impatto teorico della disciplina adottata, al fine di individuare eventuali iniziative migliorative. Preferibile sembrerebbe una soluzione che valga a privilegiare i pagamenti effettuati verso operatori medio-piccoli, prevedendo un incentivo differenziato tra, da un lato, grande distribuzione, catene commerciali, impianti di distribuzione carburanti, eccetera, che generalmente presentano contenuti livelli di evasione sui ricavi, come dicevamo prima, e dall'altro piccoli operatori, artigiani e simili, che si caratterizzano per diffusi fenomeni evasivi. Se voi andate a pagare in contanti al supermercato, nonostante voi pagate con i contanti, non ci sarà evasione. Perché pagate ad un supermercato che ha tutti i rendiconti, vi darà lo scontrino ogni santa volta. Questo vale anche per la grande distribuzione, come abbiamo detto, no? Cosa invece del tutto non scontata per quanto riguarda i piccoli commercianti. E ritorniamo di nuovo al solito problema delle grandezze delle imprese. Perché se c'è evasione in questo benedetto paese, una delle principali componenti non è quella della cultura, dell'evasione, eccetera, eccetera, ma soprattutto che le aziende sono piccole. Ed essendo piccole si possono permettere dei meccanismi che possono far evadere il fatturato o le imposte. Poi pagare in contanti e pagare non in contanti è importante, ma come vi ho dimostrato è completamente ininfluente se tu vai al supermercato o dal distributore di carburante. Ok, questo è interessante. Quindi la Corte dei Conti ci sta dicendo praticamente che dai dati che ci stiamo vedendo le persone hanno trovato molta facilità nel raggiungere questa soglia minima di 50 operazioni superata la quale si ha diritto al cashback per l'appunto. Se questa soglia fosse stata più alta, allora a quel punto lo stimolo per impegnarsi nel pagare tutte le transazioni tramite pagamenti elettronici sarebbe stata maggiore e di conseguenza anche l'impatto della politica sarebbe stato maggiore. Ci sta dicendo praticamente questo. Con riferimento al super cashback di cui parlavamo prima, allo scopo di contenere gli abusi che i dati forniti dal Dipartimento alla data del 30 aprile sembrano confermare, potrebbe essere opportuno limitare il numero di operazioni effettuabili con lo stesso operatore nell'arco della medesima giornata, anche se con carte diverse. La misura del relativo premio 1.500 euro ai primi 100.000 utenti per numero di operazioni nel semestre appare eccessiva e potrebbe avere un effetto negativo su un gran parte dei partecipanti all'operazione già nei primi mesi del semestre, con conseguente perdita di interesse alla gara. Preferibile sembrerebbe un premio di importo minore, per esempio il raddoppio del cashback ordinario, cioè altri 150 euro, per i primi 500.000 classificati nel numero di operazioni. In questo modo il costo sarebbe dimezzato e l'incentivo conserverebbe una sua validità, potendo mantenere in competizione fino all'ultimo molti più soggetti rispetto al criterio attuale. Il fatto che se chiedi lo scontrino passi come rompicapo è solo un esempio della bellissima cultura italiana, questo è vero, questo è vero, rompicoglioni, onestamente specifica. Questo è anche vero, è una cosa che scoccia parecchio, una cosa che scoccia parecchio, perché poi no, si inizia con la solita retorica, ehi i piccoli commercianti non ce la fanno arrivare a fine mese, tu sei lì a romperli col pagare le tasse, tutte scuse, tutte, tutte fottutissime scuse. Bisogna essere chiari, se non riesci ad andare avanti facendo gli scontrini non ti resta che chiudere, assolutamente, anche perché risulta come una concorrenza sleale, nei confronti degli altri esercenti che fanno gli scontrini e pagano le tasse. È anche un danno che fai alla concorrenza. Andiamo a vedere questa lotteria degli scontrini. Al 30 aprile 2021, il numero complessivo delle operazioni valide ai fini della lotteria, rilevate dal sistema, era di 61,3 milioni. Alla suddetta data, il numero di operazioni suddivise per codice a teco del soggetto operante è riportato nella tavola che segue. Ta-da! Supermercati 54%. In questo caso, per la lotteria degli scontrini, ce li abbiamo. La differenzazione per settori di attività. Mentre per il cashback non ce l'abbiamo. Però qualcosa mi dice, il mio intuito mi dice che non sarà così tanto dissimile da questa qui. E quindi, molto probabilmente, la maggior parte del cashback, come in questo caso, la maggior parte della lotteria degli scontrini, è stata spesa soprattutto nei supermercati. Grazie. Grazie.